buonasera e buonasera ai cittadini miei amici e fratelli lo sentite questo silenzio questo è il reggio calabria una città che non parla ringrazio i coraggiosi ragazzi di reggio calabria un'assoluta minoranza che si trova in questo momento in questa piazza di fronte alla corte d'appello dove il procuratore aggiunto quindi pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia che oggi fa funzione anche di sostituto procuratore generale in questo processo giuseppe lombardo la nostra solidarietà va a lui e alla direzione distrettuale antimafia di questa città però in questa città al di là del rumore delle macchine che ascoltate non c'è la gente sembra una città fantasma e le persone che vedete che camminano sono fantasmi persone che vivono qua pensano qua lavorano qua fanno figli qua la maggior parte non tutti però ovviamente però sembra che vivono nella luna nella luna ci sono dei crateri spenti ovviamente quelli che le meteorite quando sono cadute miliardi di anni fa hanno formato i mari della luna si chiamano così ecco quelle persone vivono in quel posto dove non c'è niente c'è il deserto e quindi siccome nella luna la mafia non c'è a reggio calabria per tutti i cittadini la maggioranza di questa città la mafia non c'è e invece c'è ed è quella che sta distruggendo questa città questa regione il nostro paese l'europa il mondo intero perché l'andrangheta i capi mafia di questa città magari sono dietro alcune finestre ci stanno ascoltando uomini che appartengono all'organizzazione criminale dell'andrangheta magari ci stanno ascoltando e si stanno facendo quattro risate dicendo ma guarda quei buffoni quattro gatti li quattro gatti vedete uno due tre quattro cinque siamo quattro gatti invece le persone i capi di questa città mafiosi perché chi comanda questa città non è nella politica nella chiesa e nemmeno i cittadini e chi comanda in questa città sono i capi bastone dell'andrangheta i magistrati come lombardo la combattono e sono minacciati di morte però non ne parla nessuno quasi nessuno io vengo da palermo e la città di palermo comunque con tutte le stragi si è mossa anche la città di palermo a volte sembra fantasma però qualcosa si è mosso qui invece è tutto morto vedete guardate persino le tapparelle sono abbassate questa è la città morta dei morti e allora io sono qui e prendo un impegno la voglio svegliare allegnata questa città andrò porta a porta e dirò qui c'è l'andrangheta l'organizzazione criminale la più famosa e la più potente del mondo cioè se voi state zitti cittadini di reggio calabria voi siete complici se noi stiamo zitti perché io sono un cittadino di reggio calabria io amo questa città oppure parenti in questa città che hanno vissuto qui se voi state zitti date agio ai narcotrafficanti più potenti del mondo sono qua la calabria è la regione più povera del mondo ma ha in realtà la ricchezza in centinaia di miliardi di euro è più ricca della california eppure sembra una città morta perché non avete il coraggio di parlare avete ragione lo fatto è assente ma che cosa aspettate che venga ucciso qualche magistrato spero che non succeda mai che vengono uccisi come sono stati uccisi cittadini di questa città come sono stati uccisi politici come è stato ucciso il giudice il giudice aaron aiuta scopre liti esatto quindi il mio messaggio è di svegliarvi la cocaina che uccide i vostri figli in colombia in sud america in europa in australia negli stati uniti d'america in canada nell'europa centrale e ndrangheta cioè viene da qua da tutta la calabria ma la capitale la mamma della mafia i capi cioè il punto di riferimento massimo dell'organizzazione criminale drangheta è qui nel suolo in questo momento in questa piazza ci dovrebbero essere cento centocinquantamila persone che magari ci stanno ascoltando a casa perché hanno paura perché l'andrangheta uccide ammazza chiede il pizzo minaccia traffica in armi in droga corrompe corrompe politici imprenditori quindi se i capi della mafia adesso ci stanno ascoltando come ci stanno ascoltando vedete voi ridete di noi però io vi dico che oggi è l'inizio della vostra fine perché se 20 30 50 cittadini da tutta italia è sceso a reggio calabria significa che iniziate a morire la vostra fine prossima perché oggi ci siamo 30 cittadini domani cento fra un mese mille fra un anno diecimila e quindi voi o vi sparate nel senso metaforico o vi consegnate e collaborate con la giustizia i grandi pionieri del cambiamento si ritrovarono soli ve ne racconto uno su tutti io sono credente quindi non mi servirò del mio credo cattolico cristiano per raccontarvi di grandi uomini ne parlo di vi racconto di uno di un laico si chiamava antonio gramsci il fondatore del partito comunista uno dei fondatori di grandi ideali di solidarietà di amicizia di libertà di giustizia a torino si riunì con fece una grande riunione con grande entusiasmo erano dieci oggi noi siamo di più siamo una cinquantina e fondò e disse in quella riunione disse la città è morta è in mano ai fascisti in mano a gentaglia e i cittadini hanno paura dormono ma noi nel tempo vinceremo cambieremo la nostra Italia e il partito comunista io non sono comunista ma è una bella storia questa erano in dieci nel 1976 quindi nemmeno 40 anni 50 anni dopo in quella città in tutta Italia erano oltre 20 milioni di persone ad aderire alle idee con tessera di Antonio Gramsci quindi agli amici nemici mafiosi io dico oggi inizia la vostra fine e quindi sono io che rido di voi perché io lo so che questo è l'inizio della vostra fine voi pensate di no ma io sì e lo vedrete oggi la settimana prossima fra un mese fra un anno fra dieci anni e quindi saremo noi a quel punto non solo a sorridere di voi ma a provare tanta pena e vi verrò a trovare per chiedervi di collaborare con la giustizia e raccontarci tutte le verità indicibili che voi conoscete di questa città dell'Italia e del mondo intero a presto amici mafiosi grazie grazie a tutti grazie a te Giorgio